Si è tenuta a lunedì 14 ottobre l'inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 dello studio teologico Paolo VI. Il nostro istituto teologico, che è affiliato alla Facoltà di Teologia dell'Italia sedentrionale, inizia sempre il suo percorso con questa occasione, questo invito all'inaugurazione dell'anno accademico per poter sottolineare l'importanza della formazione teologica e intellettuale nel cammino di discernimento di un giovane che si appresta a discernere la propria vocazione che diventerà poi un servizio per la Chiesa. Lo studio teologico prevede una serie di percorsi che toccano interesse nelle diverse discipline, sia quelle teologiche che quelle di carattere umanistico, basta pensare alla filosofia, alla pedagogia, alla psicologia. Quest'anno l'inaugurazione focalizzerà soprattutto l'attenzione sulla questione delle radici cristiane della nostra Europa e tenterà di evidenziare una visione nella quale anche l'impegno della Chiesa si può inserire per il bene della comunità umana, in particolar modo nella comunità nella quale noi siamo inseriti. Dopo il saluto del Rettore, Don Sergio Passeri, e l'introduzione del Perfetto degli Studi, Don Mario Zani, il pomeriggio è continuato con la relazione di Angelo Bianchi, professore ordinario di storia moderna e preside della Facoltà di Lettere e Filosofia della Cattolica di Milano su Una storia ancora da scrivere, la costruzione della Casa Europea nell'orizzonte della globalizzazione. Qual è il contributo dei cristiani? Il tema dell'Europa è un tema di grande attualità e oggi più che mai proprio di fronte alle vicissitudini che si incontrano e alle vere e proprie tragedie che sono alle porte e che avvengono alle porte dell'Europa. L'Europa ha una grande tradizione di civiltà e di cultura. Questo è l'elemento più forte e più caratteristico che l'Europa può apportare nel consesso del mondo e al cuore di questa tradizione, di questo deposito di valori e di cultura ci sta il cristianesimo che è alle origini dell'Europa, che costituisce una delle radici più salde della civiltà europea e che per questo deve essere conservata, alimentata e possibilmente tramandata. Con l'inaugurazione dell'anno accademico si dà ufficialmente avvio all'attività scolastica del seminario diocesano.